Salve, oggi voglio mostrarvi come si lavora con la caterinetta o tricotin. È uno strumento utile per creare dei tubolari con i filati più svariati, a partire da cotone, la lana ed anche i filati in lurex, con i quali potete creare anche dei gioielli molto particolari. Io ho fatto da me le mie caterinette in diverse misure e potete farli anche voi guardando il video che trovate tra i miei video tutorial. In questo caso io ho utilizzato per questa del cartoncino e per questi altri due più piccoli delle rocchette di filo. Le parti in metallo sono create con delle mollette per capelli, delle semplici mollette. Allora, per lavorare con il tricotino non avete bisogno d'altro che del filato, un paio di forbici, aghi da lana, un uncinetto per aiutarvi nella lavorazione ed una piccola molletta. Dunque, partiamo con la preparazione. Per prima cosa si infila il filo dentro al foro del rocchetto, la parte che esce verrà utilizzata per agganciare la mollettina che ci servirà, diciamo, da contrappeso. In questo momento diamo inizio alla lavorazione, in questo modo. Allora, se notate, io ho fatto un piccolo segno sul rocchetto e questo segno in pratica ci indica l'inizio e la fine del giro. Allora, iniziamo passando il filo intorno alle mollettine, ai ferretti, in questa maniera, passando da una molletta all'altra in modo che il primo giro di maglie sia bloccato, sia fermo. Ora, siamo arrivati, diciamo, all'inizio del secondo giro, non dobbiamo fare altro che appoggiare il filo sui dentini di metallo. Allora, utilizziamo adesso l'uncinetto per prendere la maglietta di sotto e accavallarla al filo che abbiamo posizionato sul secondo giro. Prendiamola sotto e accavalliamo sopra, in questa maniera. Tenete sempre una minima tensione e man mano che dovete passare al ferretto dopo, successivo, fate ruotare la caterinetta per tendere il filo. All'inizio è un pochettino complicato, ma solo in apparenza. Poi, man mano che si continua a lavorare, viene tutto in modo automatico. A questo punto il segnetto dell'inizio-fine lavoro, fine giro, ve lo dimenticate. Servirà soltanto nel momento in cui state per finire di lavorare per evitare di fare un giro a metà. Vedete, è molto semplice. Ogni tanto ritorniamo, diciamo, alla nostra mollettina al filo che esce sotto. Allora, questa diciamo che è la rete che ci si forma guardandola da sopra. Tirando leggermente il filo, la stringiamo un pochettino. Adesso non si vede niente, perché è tutto chiuso all'interno della nostra caterinetta. Poi, man mano che si lavora, inizierà a mostrarsi il nostro cordoncino. Continuate sempre in questa maniera. fate un paio di giri di accavallamenti e poi tirate un pochettino il filo sotto. Io utilizzo il tricotin per fare cordoncini da applicare ai miei lavori a maglia, per fare dei fiocchi decorativi per cappellini oppure per fare proprio dei cordoncini tipo nastro per chiudere scaldacollo oppure mantelline. Gli usi che potete fare di questi cordoncini sono veramente disparati. Mentre all'inizio vi sembra che la cosa non abbia mai una... Vedete? Già inizia a vedersi non abbia mai fine. Invece poi man mano che la si lavora prendendoci la mano vi accorgerete che il cordoncino si allungherà a vista d'occhio. Naturalmente io sto utilizzando una caterinetta a 4 a 4 ferri perché rimane un pochettino più semplice e più veloce da fare. In base al ai ferri al numero di ferri che utilizzate logicamente la caterinetta verrà più serrata o meno serrata. Questo da 6 creerà un tubolare con le maglie un po' più strette. Questa da 4 le magliette saranno un po' più larghe anche se può dipendere dal filato che utilizzeremo perché se il filato sottile su 4 maglie diciamo che viene un pochettino più morbido più aperto. Se utilizziamo un filato più grande le maglie e il filato creerà delle maglie più chiuse è ovvio insomma adesso credo di essermi spiegata. Ad ogni modo continuiamo con l'accavallamento un pochettino e un pochettino che ecco qua come potete vedere il nostro tubolare inizia a formarsi a questo punto continuate a lavorare fino a quando non raggiungete la lunghezza del tubolare che di cui avete bisogno una volta raggiunto la lunghezza necessaria non dovete fare altro che tagliare il filo ecco l'ago da lama fermate le magliette in questa maniera partendo dall'ultima infilate lago dentro la dentro la maglia fino a prendere l'ultima e chiudete tutti insieme le magliette tirando dopodiché fermate il filo facendo piccolo nodo ecco fatto questo è il nostro piccolo tubolare di prova vedete è elastico è formato da queste piccole magliette che sembrano lavorate ai ferri avete visto come è semplice ora non mi resta che dirvi buon lavoro se volete provare ad utilizzare la caterinetta e buona fantasia perché poi sta a voi utilizzare i tricotin e i tubolari nella maniera che più vi piace ci vediamo al prossimo video saluti a tutte ciao da lilla saluti a tutti